guardiamo questa compatta della Minolta, la Minolta F20R F20R sta per occhi rossi e vuol dire sostanzialmente che possiamo togliere permanentemente il flash è una compatta fatta in plastica, questa era la custodia originale con la quale veniva venduta della Minolta ed è una macchina fotografica che va alimentata con pile stilo comunissime e aveva nella parte frontale anche il copio obiettivo, è una macchina fotografica del 1994 che ha un tempo, unico tempo di scatti, un 125esimo e la possibilità di mettere a fuoco da 1.2 metri verso l'infinito, è piuttosto spartana, vedete ha soltanto di fatto lo scatto, sentite il motore e poi aveva anche il riavvolgimento automatico. Ora il fatto di questa fotocamera è che è molto leggera e veramente sembra di non portarla in tasca, guardate l'interno, pesa solo 160 grammi, ha una lente da 28 mm e inoltre un diaframma da 5.6, dimensioni veramente ridotte, 118 mm x 42 x 17, quindi molto maneggevole ed è una macchina punta e scatta con flash incorporato, comunque ottima se si vuole portare dietro un oggetto poco ingombrante. Grazie 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 Grazie